Che ve ne fate di un teorema accusatorio quando poi questo teorema non corrisponde alla verità? L'avvocato Giorgio De Stefano si rivolge così al pubblico ministero Giuseppe Lombardo nel corso dell'interrogatorio cui lo stesso imputato ha chiesto di sottoporsi durante l'udienza preliminare del processo Gota. De Stefano non ha dubbi, le dichiarazioni fatte su di lui dai pentiti non sono veritiere. Le contraddizioni che rilevo sono violentissime, deflagranti, spiega al PM e travolgono anche delle cose che riguardano altre persone. E' qui che l'avvocato cita l'ex sindaco di Reggio Italo Falcomatà criticando aspramente l'attendibilità del collaboratore di giustizia Nino Fiume, unico pentito interno alla cosca De Stefano. Fiume, afferma l'imputato, dice che Pasquale Condello era tutta una cosa con Falcomatà, ma il Fiume del 2002 racconta lo stesso episodio associandolo ad un'altra persona. Con quali riscontri dice questo? Con quale atto concreto? Un concetto su cui vi è un acceso scambio di battute con il PM. Lombardo ricorda come i pentiti dicano che all'interno dello schieramento si distinguesse il ruolo di vertice occulto affidato a Giorgio De Stefano da quello formalmente verticistico affidato a Giuseppe, figlio di Paolo. Questo non è un fatto che del PM per De Stefano non lo è. Lombardo allora domanda se comandare e fissare strategie non sia un fatto. L'imputato non molla, il fatto è un contenuto. Un confronto duro, aspro, in cui l'avvocato nega tutti i suoi contatti tanto con Chirico quanto con lo spione Giovanni Zumbo. Un interrogatorio ora agli atti e che avrà sicuramente un peso nella decisione che da qui a breve dovrà prendere il Guplaganà. Consolato Minniti per la CNews24.